Conclusa l'operazione denominata Trinacria 2024, condotta nei giorni scorsi nel territorio montano dell'Agrigentino, volta a reprimere fenomeni di bracconaggio. 13 persone denunciate all'autorità giudiziaria, 8 fucili e 2 esemplari morti di cinghiale sequestrati. Il WWF esprime applauso e apprezzamento per l'ottima operazione dell'arma e soprattutto dello speciale nucleo antibracconaggio dei carabinieri forestali appositamente venuto da Roma in occasione della preapertura della stagione venatoria in Sicilia, che come noto per decreto regionale è iniziata lo scorso 1 settembre con ben un mese di anticipo rispetto alla data autorevolmente suggerita dall'ISPRA, l'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale. I numeri di questa operazione sono gravi e preoccupanti perché denunciano una situazione di legalità diffusa e sfacciata, dichiara così Ennio Bonfanti, referente fauna del WWF Sicilia e membro del Comitato Regionale Faunistico Venatorio dell'Assessorato all'Agricoltura. Se solo nei primi giorni di preapertura della caccia e solo in un piccolo ambito dell'Agrigentino ci sono stati così tanti cacciatori denunciati, allora significa che in Sicilia l'apertura della stagione venatoria equivale ad un massacro di legalità e di fauna. Ormai da anni denunciamo inascoltati dalla regione che in tutta l'isola caccia e bracconaggio sono fuori controllo. I 25.000 cacciatori regionali hanno la quasi certezza di non incappare nessun controllo, consapevoli della scomparsa pressoché assoluta di vigilanza venatoria. Uniche eccezioni sono la Polizia Provinciale di Raguse e le Guardie Volontarie WWF, le quali già nei primissimi giorni dell'apertura hanno sanzionato diversi cacciatori nel Nisseno. In queste condizioni di assenza di controllo del territorio la Sicilia rappresenta una vergogna europea, un mattatoio a cielo aperto che rischia di distruggere il patrimonio della fauna migratrice che transita nel Mediterraneo. Rinnoviamo dunque ancora un accorato appello all'assessore regionale dell'agricoltura Barbagallo a sospendere immediatamente l'accelerata apertura anticipata della caccia che sta alimentando il bracconaggio più selvaggio. In ogni caso la regione deve subito promuovere e avviare una straordinaria azione di implementazione della vigilanza venatoria in tutte le nove province siciliane perché cinque mesi di stagione venatoria di caccia in queste condizioni sarebbero un disastro ambientale intollerabile.